... Mister, una partita che si preannunciava già vincente. Nel primo set le avversarie hanno tenuto testa, poi non c'è stata partita. Come è andata e come l'hanno affrontata le sue ragazze? Diciamo che non è stata una bellissima partita. Sapevamo di essere superiori come squadra. Loro un gruppo molto giovane e noi abbiamo impattato male. Del resto probabilmente la pausa natalizia, come spesso capita, non fa bene. Abbiamo capito al volo che o iniziavamo a difendere davvero o sarebbe stata dura. Per fortuna nel terzo quarto siamo usciti allo spogliatoio un po' meglio, non benissimo, ma un po' meglio. Abbiamo aperto il punteggio e l'abbiamo portata fino in fondo. Un'altra vittoria comunque portata a casa. I prossimi obiettivi quali sono? I prossimi obiettivi restano quelli dall'inizio, cioè affrontare una partita alla volta, vedere un gruppo che deve crescere sia nel senior ma soprattutto nelle giovani, un po' alla volta inserirle e cercare di migliorare partita per partita. Non ci diamo obiettivi oltre la settimana. Il vostro mister ha detto che tutto sommato, nonostante la vittoria, non è andata molto bene. Come mai? Direi stasera no, troppa confusione in campo, non siamo riusciti a giocare ordinate come il solito. Poi vabbè il punteggio sorride, però il gioco non è stato molto buono. Vi ha fregate un po' la pausa natalizia? Eravate un po' diciamo così ferme? Beh sicuramente abbiamo fatto una decina di giorni di pausa anche proprio dagli allenamenti, per cui la forma fisica non era il massimo, ci siamo allenate poco prima della ripresa e adesso pian piano speriamo di riprendere la forma. La partita non è stata delle migliori, la vittoria comunque è stata portata a casa, tanti canestri per voi. Quali sono i prossimi obiettivi? Cercare di concludere il giurone di andata bene come abbiamo fatto fino adesso, ovvio giocando bene sarebbe meglio, vincendo comunque va bene lo stesso. Quali sono le avversarie che temete di più? Mi cogli un po' impreparata. Già la partita prossima mi hanno detto che, io non conosco tanto, però la partita prossima mi hanno detto che sarà difficile, sarà una partita impegnativa. Poi sono state gare a punto a punto anche Giussano, Lussana e Varese. Diciamo che comunque questa è la dodicesima vittoria consecutiva, quindi un'ascesa che continuerà? Speriamo di sì, noi ce la stiamo mettendo tutta, il nostro obiettivo comunque è anche quello di far crescere le giovani, quindi non è salire, vincere il campionato, ma è crescere come squadra e come gruppo. Fino adesso ci stiamo riuscendo e speriamo che continui così. Una squadra che promette non bene benissimo, 12 vittorie consecutive, quali sono i prossimi obiettivi? Insomma direi che va più che bene, i prossimi obiettivi sono quelli di vedere una squadra in crescita, in modo tale che si riescono a integrare molto le senior con tutto il settore giovanile e anche questa mattina hanno dimostrato di poter tenere il campo e vediamo un po' i prossimi risultati come andranno. Quindi credere nel basket femminile perché le nostre ragazze ce la possono fare? Sì, direi che la squadra è molto molto competitiva, tutti stanno lavorando molto bene e direi che non possiamo che essere contenti di questa annata che si sta avvolgendo. Adesso al termine manca ancora una partita per il girone di ritorno e ormai siamo nel campionato d'inverno e speriamo bene che questa squadra si possa ripetere anche nella seconda fase. Grazie. 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 Grazie.